Musica Il Fuligno Calcio dopo i festeggiamenti per la Proda in eccellenza integra la società con gli inserimenti di Gianluca Bazzi Cassandro Picchiarelli, confermato mister Armillei, Gubbio Calcio, Volpe Calombo al passo d'addio Tiro al volo, mille atleti a giugno in Umbria per gli europei di Sporting combinato organizzati ed ospitati a collazione dal TAV Piancardato Boxe il talentuoso 15enne Ugubino Amanà pronto all'esordio assoluto Buonasera, ben ritrovati con il TG Sport Si continua a pianificare il futuro in casa Gubbio con il presidente notari deciso a rinnovare sia la sfera dirigenziale che la rosa Il punto fermo sarà Alessandro Sandreani che rimarrà sulla panchina Ugubina mentre per quanto riguarda i giocatori sono in uscita pezzi pregiati come il portiere Volpe e il laterale Calombo ambedue in scadenze da appetiti da diversi club anche di categoria superiore contratti scadenza anche per il difensore Burzigotti e centrocampisti Valagussa e Malaccari ma tutti e tre hanno buone chance di permanenza in rosso-blu Tra gli elementi sotto contratto invece si ripartirà dal duo d'attacco composto da Casiraghi e Marchi mentre sono ai saluti i difensori Piccini e Dierna In Serie B doppia seduta per il Perugia che domenica sera affronterà in trasferta il Venezia nel primo turno playoff il tecnico Nesta dovrebbe confermare la difesa a tre al contempo restituire una maglia da titolare a Del Prete che può giocare sia nella retroguardia assieme a Volta e Magnani che sulla corsia destra di centrocampo al posto di Zanon sulla tre quarti invece Diamanti è favorito su Buonaiuto per ispirare il duo offensivo composto da Cerri e Di Carmine Spostiamoci in eccellenza perché è addirittura d'arrivo la fusione tra le società Assisi e Subaseo pronte ad unire le forze per creare un'unica società che disputerà la massima serie regionale e disputerà le gare interne ad Assisi Intanto il Foligno Calcio ne ho promosso annuncia la conferma in panchina di Antonio Armillei e l'ingresso in società di due nuovi soci si tratta di Gianluca Bazzica e Sandro Picchierelli il punto in questo servizio L'attività del nuovo Foligno Calcio non si arresta la società è già all'opera per pianificare la prossima stagione che vede la squadra nel campionato di eccellenza e stasera il presidente Toffi ha voluto ufficializzare la permanenza sulla panchina bianca azzurra di mister Antonio Armillei anche per la prossima stagione La società diciamo che ha intenzione di fare un campionato da protagonista e per far questo cercheremo di fare una squadra adeguata alla categoria di due Il numero uno della società continuamente sottolinea quanto sia importante coinvolgere sempre di più tutta la cittadinanza che a cominciare dallo scorso anno ha dimostrato di essere vicina a questa nuova società rispondendo in maniera massiccia e forse inaspettata A tal proposito il presidente Toffi ha detto che si punterà sempre di più sui social e sul sito ufficiale per far sì che la società del Foligno Calcio sia un patrimonio di tutti anche con il passaggio della società a SRL con quote per l'azionariato popolare Ma non finisce qui, Mariano Giorgetti presenta i due nuovi ingressi in società si tratta di Gianluca Bazzica, noto imprenditore conosciuto in città per l'altrettanto nota azienda di famiglia e dell'avvocato Sandro Picchiarelli, esperto di diritto commerciale e societario Parliamo di calcio 5 giovanile perché per il secondo anno consecutivo i giovanissimi della Fontanelle andranno a giocarsi la Final 8 scudetto di categoria i bianco-blu hanno raggiunto tale traguardo battendo 4-2 dopo i supplementari gli amici di Mondolfo che aveva vinto per 4-3 gli Eugubini nella gara d'andata il tutto nello scenario di una polivalente gremita e festosa con i tempi regolamentari terminati 3-2 per il Fontanelle prima del gol di Ceccarini che nei supplementari valeva il titolo interregionale appuntamento del Liguria a partire dal 31 maggio con il sogno tricolore di nuovo acceso a distanza di un anno Siamo alla box, tutto pronto per la prima di Nordine Amanail 15enne Eugubino di origini tunisine che sabato sera farà il suo esordio assoluto nel mondo del pugilato Location sarà il Palabox di Sant'Andrea delle Fratte a Perugia in una serata organizzata dallo Sport Box Perugia ovvero la manifestazione pugilistica interregionale L'evento partirà alle 16 con gli incontri di kickboxing e tiebox mentre dalle 18 inizieranno a calcare il ring e i pugili tra cui appunto Nurdine allenato dal maestro di box ex campione Gian Mario Grassellini Nurdine si allena di fatti alla GMG Box la scuola di pugilato di Gian Mario sabato avrà di fronte un avversario che ha già 4 incontri in carriera un test probante per vedere sin da subito il livello pugilistico del giovane che in passato ha subito anche episodi di bullismo e razzismo e che Grassellini ha definito pieno di passione e con grande tecnica chiudiamo con il tiro a volo perché a distanza di due anni dal mondiale il tiro a volo piancardato di collazione è stato selezionato per ospitare in Umbria due grandi eventi come il campionato europeo di sporting e il campionato europeo di tiro combinato vi lasciamo con questo servizio ringraziandovi per l'attenzione buona serata gli amanti del tiro sportivo sembrano aver scelto l'Umbria e i suoi paesaggi come mete preferite dove poter praticare al meglio la loro passione dopo il successo dei campionati del mondo di sporting 2016 infatti il tiro a volo piancardato di collazione è stato selezionato nuovamente dalla federazione internazionale di tiro con armi sportive da caccia per ospitare due nuovi grandi eventi nella struttura presieduta da Marsilio Palermi si svolgeranno dal 7 al 10 giugno il 51esimo campionato europeo di sporting e dal 29 giugno al 1 luglio l'undicesimo campionato europeo di tiro combinato una vetrina decisamente importante per tutto il territorio regionale visto che sono attesi complessivamente quasi 1000 atleti provenienti da circa 30 paesi europei con famiglie e staff tecnici oltre con l'azione coinvolte negli eventi anche Todi e Gualdo Cattaneo nel centro storico della prima, mercoledì 6 giugno si svolgerà la cerimonia inaugurale del campionato sporting mentre nella seconda, giovedì 28 giugno si terrà l'apertura del campionato di tiro combinato gli atleti dello sporting si sfideranno fu 32 postazioni in 8 campi, gara, tutti diversi tra loro sia nell'ambientazione che sul piano tecnico 8 saranno le postazioni sulle quali si effettueranno le prove libere e quelle ufficiali in programma dal 2 al 6 giugno atleti appassionati potranno inoltre avere a disposizione 4 campi sui quali provare i migliori fucili al mondo dei diversi produttori italiani per la disciplina del combinato gli atleti si sfideranno su 6 campi gara tutti concentrati nella struttura del tab pian cardato era una scommessa nel 2016 con questo evento importante dove sia la federazione internazionale che la federazione italiana di ravvolo ci ha creduto, ci hanno sostenuto le istituzioni locali e abbiamo questo evento che ad ora è ancora stato classificato è stato etichettato come il mondiale dei mondiali questo è il nostro successo insieme a tutti i collaboratori ci ha permesso di essere assegnatari di questo nuovo evento che è l'Europeo di Sporting e non solo questo, la nostra sorpresa è stata che ci è stato assegnato anche il secondo evento a distanza di circa 25 giorni che è sempre un europeo di tiro combinato da caccia dove è una disciplina nuova per la prima volta in Italia che si svolge con armi rigate e con armi a canna liscia ecco perché è combinato si spara ai piattelli e a sagome con canna liscia che si svolge con armi rigate e con armi rigate e con armi rigate grazie! grazie!